cari amici di motorsport.com ciao a tutti benvenuti in questa nuova puntata di pillole di tecnica il format che vuole raccontarvi la storia della formula 1 attraverso la spiegazione gli aneddoti ma soprattutto i disegni di alcune vetture più note particolari della massima serie per farlo qui con me c'è il nostro Giorgio Piola ciao Giorgio ciao Beatrice ciao a tutti allora Giorgio attraverso i tuoi disegni abbiamo già raccontato la storia e l'evoluzione della Ferrari 312 B3 chi non l'ha ancora fatto lo invito assolutamente ad andare a recuperare il video perché Giorgio ha regalato degli aneddoti meravigliosi oggi caro Giorgio restiamo sempre nel mondo un po degli anni 70 diciamo per andare a raccontare una delle più particolari monoposto di sempre mi verrebbe da dire proprio per per un dettaglio che non si può non notare la tirrel P34 ovvero la famosa tirrel a sei ruote perché vuoi raccontare questa macchina Giorgio beh è stato uno dei miei lavori migliori devo dire perché all'epoca vabbè si aveva un rapporto fantastico tanto che ti ho mandato degli schizzi di Derek Garner che era il progettista e il rapporto con la tirrel era incredibile incredibile io potevo ovviamente entrare nel garage ho fatto migliaia di foto fra l'altro ho fatto anche un disegno che io ritengo il mio più difficile della mia carriera ma te lo spiego dopo il perché ma questa cosa me l'hai già raccontata però gli amici secondo me non lo sanno ma andiamo con ordine è stato è stata una monoposto che ovviamente mi ha colpito subito e l'ho disegnata proprio in tutte le sue fasi manca l'ultimissima versione quella con poi i radiatori messi inclinati davanti i voluti da Maurice Philippe che ha sostituito Derek Garner che è stato il progettista quello che ha avuto l'idea l'idea era quella di creare una vettura con una ridotta sezione eh frontale anche se devo dire subito l'idea migliore era quella che poi è venuta successivamente a Williams e a March eh prima del bando delle quattro ruote motrice di fare quattro ruote piccole dietro perché ovviamente lo si vede subito dai disegni ma soprattutto dal confronto della sezione frontale sì davanti si otteneva una buona riduzione di sezione ma poi c'erano quelle enormi ruote gomme posteriori che all'epoca tra l'altro rendevano le vetture di quell'epoca un po' strane perché avevano anche le vetture diciamo tradizionali avevano dei pneumatici anteriori piccoli stretti e poi queste posteriori enormi proprio per sopportare i cavalli dei motori 3.000 aspirati. Garner volle ridurre ancora di più la sezione mettendo quattro ruote piccolissime all'interno che venivano praticamente quasi totalmente mascherate dal largo muso ecco perché l'altra caratteristica era mentre il modello precedente la 007 aveva il classico muso stretto con i due i profili laterali la P34 sin dall'inizio sin dal prototipo aveva subito questo musone largo. È stato un progetto ambiziosissimo e difficile perché ovviamente non solo ha coinvolto il reparto progettazione della Tire che hanno fatto questa macchina completamente diversa dalle altre ma anche la Goodyear che ha dovuto realizzare dei pneumatici anteriori molto piccoli e poi tutti gli altri fornitori per i freni per gli ammortizzatori dovendo fare dei miracoli per non avere poi una vettura che pesasse maggiormente rispetto a quella tradizionale perché ovviamente i dischi dei freni anteriori invece che essere due erano quattro gli ammortizzatori invece che essere due ovviamente erano quattro e però è stato un progetto che mi è piaciuto tantissimo tanto che l'ho disegnato veramente in maniera molto 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 dettagliata. Credo di essere stato quello che l'ha disegnata in maniera più dettagliata però devo dire che ho avuto uno di quei colpi di fortuna perché è vero che bisogna aver pazienza bisogna spingere bisogna lavorare bisogna però ci vuole anche la fortuna e nel caso della Pire P34 fu un viaggio in Brasile in cui io mi trovai seduto a fianco a Ken Tire e scusa quelle classiche frasi a proposito visto che lei è qui ne interesserebbe fare i disegni della nostra monoposto all'epoca uscì credo che fosse il primo De Plian brochure fatto da un team voluto dalla ELF ne ho recuperato e te l'ho mandato uno che purtroppo tra trasloco tra insomma tutti gli anni che sono passati è rimasto molto rovinato però fu quello un colpo di fortuna pazzesco perché ovviamente io saltai su sedile anche con le cinture di sicurezza e dissi subito sì e a quel punto non mi diedero ulteriori disegni ma mi lasciarono fotografare tutto e riuscì addirittura che era appunto messo in questo De Plian a fare una vista dall'alto in cui tutto andava tutte le canalizzazioni, il circuito dei freni, il circuito dell'olio, il circuito dell'acqua, della benzina avevano tutto il loro disegno perfetto, il loro andamento era un disegno che comportava ben 32 numeri di spiegazione forse fin troppo dettagliato sei stato George sì di fatti devo dire una cosa che mi fece rimanere molto male perché io lo considero forse il mio disegno più difficile perché adesso svelo un segreto quando si fanno gli spaccati se per caso vabbè ci sono alcuni che quando fanno gli spaccati inventano completamente la meccanica pur facendo disegni belli e però vabbè è un loro problema io quando facevo uno spaccato e non sapevo esattamente un particolare come era non ero riuscito a fotografarlo era sufficiente fare un pezzo di carrozzeria e lo vedi nei disegni dietro di te ogni tanto anche per far vedere la forma della macchina devi per forza far vedere un po' di carrozzeria e questo ti permette in alcuni casi ma devo dire poco perché quasi spesso riuscivo a fotografare tutto anche perché in quegli anni ero praticamente l'unico tutti dicono che ero il più bravo ma è quel famoso detto lo credo ero l'unico non c'era nessun altro avevo pieno accesso e ho fatto questo disegno che come hai detto tu fin troppo dettagliato e la delusione è che non fu pubblicato dalla brochure della Tire ovviamente insieme anche a un profilo molto dettagliato ma nessun giornale io all'epoca lavoravo per tantissimi giornali fra l'altro Autosport inglese che era il giornale più prestigioso poi Autosprint, La Gazzetta, poi altri Gosporotone, altri giornali sparsi per il mondo nessuno lo pubblicò proprio perché c'erano quei maledetti 32 numeri che all'epoca non esisteva Photoshop io adesso in questi anni quel disegno l'ho ripulito ho rifatto tutti i tratti dove la freccia andava a coprire il disegno all'epoca era proprio impossibile perché il disegno era fatto su un lucido e quelle 32 frecce non si potevano levare nella maniera più assoluta e ci rimasi male perché quello che io consideravo il mio disegno più difficile e se uno è preciso non va bene e se non sei preciso non va bene ma lì era semplicemente una questione di impaginazione che poi si rischiava che non si vedesse bene il disegno e poi anche era una difficoltà nelle varie lingue a tradurre tutti i 32 punti ma proprio anche un problema di spazio poi devo dire che forse dal punto di vista estetico era un disegno meno accattivante perché ovvio il tre quarti lo spaccato ti affascina sempre una vista così dall'alto può sembrare banale lo è banale se viene fuori dalla squadra perché ce l'hanno e quindi non fanno nessuna fatica ma ricostruirlo senza essere nell'ufficio a progettazione di una squadra devo dire è stato un gran lavorone e ne sono contento e di fatti quando io metto una scelta di miei disegni migliori quello è sempre presente per parlare un po' della storia sportiva di questa monoposto di fatto la tir del P34 Giorgio si dimostrò fallimentare perché viene messa in pista nelle stagioni del 76 e del 77 nel 77 tra l'altro con una versione B con una scocca un po' irrobustita e con delle modifiche aerodinamiche che non diedero però comunque grandi risposte positive in termini di risultati e poi c'è stato poi l'abbandono del progetto nel 1978 diciamo un po' troppi ritiri rispetto ai buoni risultati o ai buoni piazzamenti c'è però da evidenziare una doppietta che è rimasta leggendaria conquistata nel 1976 era il 13 di giugno in Svezia e viene conquistata da Jody Schechter e da Patrick Depayet come mai un lumino di luce vittorioso di fronte ad anni comunque di fallimenti? Evidentemente la vettura si dimostrò molto a suo agio su quella pista e devo dire era già la versione quella più evoluta, più bella perché se vediamo le due versioni del 76 sono un po' un brutto anatroccolo perché il corpo vettura era rimasto quello della 07 c'è questa carenatura dell'abitacolo che era veramente brutta addirittura c'erano due oblò chiamiamogli per vedere le ruote davanti e l'aerodinamica faceva un po' era proprio, si vedeva che era stata fatta non col piccone però insomma abbastanza messi tutti i pezzi assieme quella del 76 devo dire a vederla anche adesso è una vettura che affascina è molto bella il problema grosso più che altro che la rese meno competitiva rispetto alle altre è che la Goudira fece dei pneumatici molto più performanti e ovviamente quelli posteriori erano uguali a quelli delle altre monoposto e quelli anteriori ovviamente la Goudira visto il fallimento dell'anno 76 senza nessun grosso risultato di questa monoposto non se la sentì dispendere per fare il pari sviluppo della gomma posteriore anche su quella anteriore e quindi ovviamente la macchina era molto sbilanciata Maurice Filippo addirittura allargò le careggiate anteriori per cercare di aumentare il grip delle ruote anteriori però quello fu un episodio proprio unico e raro anche se ovviamente molto importante e fece molto piacere alla squadra perché una doppietta potete pensare è sempre una cosa importante a voglia certo che è importante però se ti chiedessi perché un progetto di una monoposto sei ruota alla fine è fallito qual è il motivo secondo te di questo fallimento? Sinceramente alla fine delle fine non era la soluzione che risolveva i problemi di aerodinamica di rendere una vettura per il motivo che ho detto all'inizio perché si riduceva la sezione frontale e diciamo fino al pilota era tutto a posto poi c'erano quei due enormi tappetoni che giravano e creavano perché ormai lo sanno tutti le monoposto di Formula 1 con le ruote scoperte gerano turbolenze hanno un CX che è praticamente quello di un camion quindi si era risolto un problemino davanti importante che poteva avere un buon sviluppo ma non era così importante e determinante come invece poteva esserlo la soluzione della sei ruota delle sei ruote Williams soprattutto che aveva realizzato il progetto ed era in avanzatissima progettazione e poi anche la Marcia lo voleva fare perché in quel caso la riduzione di sezione diventava molto importante e le ruote posteriori diventavano molto molto più piccole di quelle anteriori poi c'era un altro vantaggio accoppiate dietro il diffusore nelle monoposto di quegli anni poteva partire dalla tangente della ruota posteriore davanti e finire fino in fondo alla vettura avendo quattro doppie ruote dietro questo diffusore diventava molto più lungo tant'è vero che negli studi fatti dell'eventuale progetto della Williams che avrebbe dovuto nascere si poteva andare anche quasi senza ala posteriore e era un progetto che praticamente aveva tenuto segretissimo e che avrebbe dato un vantaggio incredibile alla squadra infatti come hai detto tu ci sono state altre squadre che hanno provato a copiare il progetto della T-Rail P-34 hai parlato della Williams nell'82 prima ancora la March poi anche mi risulta la Lotus del 77 con quattro ruote anteriori tutte monoposto che comunque in pista non scesero mai sì e quelle delle quattro ruote posteriori te l'ho già raccontato credo in un'altra occasione c'è un aneddoto che credo che sia il più bello aneddoto della Formula 1 perché sarebbe stato bellissimo filmare la scena del ritorno di Frank Williams dopo una riunione a Modena con Balestra e Eccleston Enzo Ferrari e forse anche Kent Iren dove si discutevano a quell'epoca c'erano queste riunioni chiamiamo tra fochisti e legalisti cioè i costruttori inglesi i costruttori veri costruttori come Ferrari e Renault e poi ovviamente Bernie Eccleston e Balestra e da quella riunione Frank Williams tornò tutto gongolante contento dicendo a Patrick che andò subito curioso per sapere cos'era successo allora Frank come è andato ah guarda Patrick benissimo stupendo è stata una riunione molto lunga positiva abbiamo fatto tante cose fra le altre cose abbiamo messo al bando le quattro ruote motrici credo che lì forse un terremoto avrebbe causato meno rotture di vetri nell'edificio della Williams che con un watt e poi watt F puntato che cosa cavolo hai accettato di proibire cosa di nuovo pensavi che ci fossero quelle F quattro ruote posteriore nella nostra macchina e Frank dice ma questo era quel progetto segreto di cui non mi hai mai voluto parlare io non ne sapevo niente hai tenuto talmente bene il segreto che io non lo sapevo e quindi ci fu veramente quello che si può dire adesso perché ormai qualche termine un po' meno elegante lo si riesce a dire il più grosso scazzo della della storia della della Williams quasi a portare una rottura perché veramente il progetto aveva poi comportato una trasmissione molto complicata era veramente uno studio che aveva coinvolto tantissimo la Williams e aveva speso tantissimo in queste avrebbe dato dei risultati credo notevolissimi e anche un vantaggio perché gli altri prima di copiare avrebbero perso come minimo un anno quindi la Williams perso un'occasione di poter dominare con una soluzione anche se vi erano molti problemi con la trasmissione perché fu un progetto estremamente difficile ascolta ma Ferrari ci pensò mai a fare un progetto di una monoposto con sei ruote? no fece delle ruote posteriori più strette gemellate ma un esperimento a Fiorano e poi svanito nel nulla come come svanì nel nulla con Villeneuve il tentativo del cambio al volante che senza l'elettronica non funzionava e quindi fu bocciata all'inizio ma anche tanti come la più sperimentale di tutte la Ferrari Spazzaneve di cui abbiamo parlato parlando della B3 ma anche per esempio delle carenature delle ruote anteriori le semicarenature fatte sulla T2 che furono proibite quindi esperimenti a quell'epoca se ne facevano tanti anzi a proposito di carenature delle ruote perché adesso sono state introdotte con queste monoposto proprio queste carenature così un anno sulla Brahma in Castellet purtroppo non ricordo l'anno Gordon Murray fece delle piccolissime carenature alle ruote anteriori e ovviamente la macchina era tenuta nel garage completamente nascosta coperta queste ruote anteriore poi la federazione andò a vedere la macchina e proibì la soluzione quindi in teoria non ci fu nessuno scatto in pista di questa soluzione perché rimase coperta nel garage salvo io un momento in cui io entrai dentro il garage perché all'epoca si poteva entrare nel garage liberamente con un giornalista italiano un certo Giancarlo Falletti del Corriere della Sera che tranquillo tranquillo come se nulla fosse prese le coperture le alzò e fece una foto e non si accorge e non si accorse che nel box c'era Bernie Eccleston e lui aveva dei buoni rapporti con Bernie poi bisogna dire che Bernie su certe cose aveva un senso dello humor pazzesco e Falletti vedendolo non sapendo più cosa li e balbettò un sorry Bernie e Bernie non si arrabbiò non gli disse dammi il rullino assolutamente non pubblicarle non so mai se Giancarlo abbia pubblicato questa foto che ovviamente è stato l'unico scatto di quel particolare però per dire all'epoca come succedeva una volta degli episodi che erano veramente esilaranti ovviamente io come vedi Falletti fare quella cosa dici oh Dio mio adesso mi mette nei guai perché io ho sempre cercato di rispettare in maniera assoluta quelle che erano le regole io personalmente non l'avrei mai alzato quel drappo sulle ruote anteriori e hai fatto bene perché è anche bello riuscire poi a farsi dare fiducia perché altrimenti se tu ti fossi comportato diversamente forse tutta questa fiducia magari non ce l'avrebbe la cosa buffa che credo Bernie abbia lasciato fare Giancarlo era perché tuttavia lui era un giornalista non di tecnica quindi l'ha fatto proprio in maniera più da burlesca che non in maniera per fare lo scoop o la cosa tecnica pazzesca molto probabilmente se l'avessi alzata io forse la reazione sarebbe stata diversa perché l'avrebbe fatto proprio come proposito di scoprire una cosa che in teoria doveva essere proibita perché se dentro casa sua è coperta dovevi rispettare il fatto che in pratica eri ospite dentro il box però fatta da Giancarlo è sembrata proprio una birricchinata diciamo e niente di più Giorgio visto che anche con questa macchina hai tirato fuori degli aneddoti veramente fantastici noi siamo praticamente arrivati alla fine della nostra chiacchierata io invito i nostri amici ovviamente a farci sapere qui sotto cosa ne pensate degli aneddoti di Giorgio commentate iscrivetevi al nostro canale youtube attivando la campanella delle notifiche ovviamente e Giorgio vi diamo appuntamento a una prossima puntata di pillole di tecnica ma ancora una volta non vi svegliamo la macchina giusto? no ce la teniamo per noi ciao a tutti ciao Giorgio grazie ciao a tutti al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti